quindi questo è l'ultimo episodio flint ho trovato un doppler non credo perché scusami se questo livello potevo farlo sia adesso che prima penso che l'ultimo livello sia quello sopra ci farà trovare la rotta per il replica cibo di flint tra le nuvole portalo al laboratorio sam ci provo ma abbiamo un problemino ma c'era scritto 5 del mattino ma non l'ha detto c'era scritto 5 am che vuol dire 5 del mattino ma non l'ha detto eccolo qua il problemino dov'è la macchina sam? sotto un marshmallow gigante dite che ci arrivo? no allora ma questa barca fatta di emmentale pizza incredibile buongiorno no è sbagliato io pensavo buon per noi tanto di guadagnato trasporto attivato trasporto allora aspetta ecco fatto ecco qua uno di trenta qua ci posso salire no non posso fare io ci provo scusami no peccato volevo provare a fare il furbo sincero volevo solo provarci allora dove dobbiamo andare? bello c'è un lime qua allora patatina qui non c'è nulla a parte una fettona di lime gigante tu vieni qui tu vieni qui e la direzione è di là perché se no i bimbi si perdono buongiorno ecco fatto ma maledetto mi ha fatto ridere che qua ha fatto così proprio è arrivato in scivolata e la scicolto allora gnocco fritto andato qui abbiamo all'acqua ammetto che sono stati stronzi e effettivamente se non l'avessi visto di traverso magari l'avrei anche perso allora prima di tutto dobbiamo vedere dove finiamo se andiamo di qua perfetto e abbiamo patata e gnocco fritto e siamo già a 7 oggetti su 30 che sono più che abbastanza qui non c'è nulla se non la morte è certa tornando indietro la cosa qua di burro non so cosa ci potrebbe servire ma portiamocela non si sa mai posso metterla qua yes no il gioco me l'ha fatto pensare che potevo metterlo ma non è stato così allora vediamo basta perfetto non ho idea dove dovrei forse ah beh si mi serve cioè in pratica forse potrei anche arrivarci nella teoria vabbè usiamo il bagel e via che bello che adesso il pugno è velocissimo bestione vieni bestione allora non mi sembra di aver dimenticato nulla no ecco qua è morto il marshmallow perfetto io ecco esatto sto per dire non mi fiderei vorrei scendere di sotto per vedere se c'è qualcosa e infatti mi ho cofritto gelato non è che saremmo scesi comunque però dopo le ultime volte che abbiamo perso o stavamo per perdere cose per delle cavolate senza uno nemici zero vabbè flint lockwood difende la nave tosto dai pirati biologici pistola fondente perfetto addio che poi effettivamente questa parte non serviva però ecco qua ma magari in realtà adesso c'è un melograno magari adesso c'è il melograno per quello te lo fanno prendere quindi per sicurezza io me lo porto non si sa mai lo facciamo così ecco fatto non mi faccio pregare vieni qui comunque accelerazione delle particelle due perfetto aspetta un attimo allora questa un grande tosto volante ah non non posso prenderlo cioè nel senso non posso portarmelo io de ma poi il tosto volante dove perfetto io che sono una brutta persona non mi fido del gioco vedi cosa succede a fare lo stronzo maledizione a me muori ecco fatto abbastanza caldo un grande tosto volante ma il tosto volante dove lo vedi flint scusami galleggiante ok sono dei tosto ma volante dove cosa cosa vede che vola la sua immaginazione vola galoppa proprio 17 su 30 dai siamo a più di metà che poi il mio era tutto sapevo che non mi sarebbe servito a nulla il coso di cocco era tutto egoismo il mio e in ogni caso lo volevo portare ma proprio per principio oh tinte sei lì mi serve aiuto sto per finire in un polpettone o cielo resisti Sam o cielo muori cibo cattivo vai provaci ti sto aspettando allora queste me le prendo non c'è niente che possa prendere peccato ecco fatto tutti i punti extra per noi addio alla patatina secondo me a questo giro l'ho dimenticato qualcosa da qualche parte imboscata ah ok da qualche parte imboscata secondo me qualcosa l'abbiamo lasciato indietro però siamo già 22 su 30 forse no forse sono solo malpensante radunarsi forse sono solo malpensante vieni qua vieni no stiamo girando dalla stessa parte non ne usciremo mai perfetto vieni con me tu che non si sa mai rimani qui no ecco fatto tu beh guarda ho il il coso gommoso penso che la salsiccia sia l'ultimo dei miei problemi però eh esatto questa qui questa ce la prendiamo ecco fatto tu vieni con me vediamo se allora fammi vedere se riesco a fare un attimo il furbi dove va cosa hai scivolato perché vediamo se riesco a fare il furbo no eh allora avrei voluto tentarla ma immaginavo che sarebbe finita così non cadere di sotto mi raccomando lo so benissimo che non c'è speranza ma proviamoci la speranza è sempre l'ultima a morire e chi è che muore prima quello che stava sperando ecco qua rilocalizzazione iniziata calmo calmo non cadere di sotto mi raccomando permettimi ecco fatto ah ecco appunto perfetto non mi arrenderò mai flint è ancora vivo ok flint perché sei stupido dannazione flint come dicevo tanto il coso gommoso non ci serviva però per principio ormai me lo volevo prendere per principio me lo sarei portato dietro ecco fatto allora mi ho coperto fritto e siamo 26 su 30 guardala lì allora aspetta aspetta allora lì c'è un'altra un altro gnocchetto fritto muori mega tira pugno allora mi serve qualcosa per arrivare lì il punto è che cosa uso liquidazione ah ma aspetta ma le vongole erano il mio nemico no no allora calmi tutti calmi tutti perché qua già mi sta vabbè tentiamo l'ascolta lo sapevo è attento alle gommose tua sorella è gommosa ecco fatto dai tanto lo so che adesso scenderanno altre goccioline che ah ma buongiorno bianco su bianco chi ti ha visto scioglilo ecco fatto dicevo tanto lo so che adesso scendono altre gocce ma lo dog adesso a caso ecco fatto vabbè niente non la prendiamo la vita perché dovevamo salire sull' gnocco fritto cosa se sta citazione a alle foglie dell'imperatore l'altro braccio con la liscia ecco fatto e a questo giro livello completato muori liquidazione perfetto vieni qui tu inforcazione perfetto livello completato peccato niente vita al massimo ma ora possiamo trovare il replica cibo con l'auto volante 2 sei instancabile flint lockwood oh si eh si e vi fidanzerete e come premio mi hanno appena dato un gelato è instancabile flint lockwood grazie a sam e brent partimmo con l'auto volante 2 oltre le nuvole su fino al replica cibo ribelle era cresciuto così tanto e così in alto che aveva formato un astro polpetta ma cosa l'astro polpetta santo cielo l'astro polpetta non è che me lo fai fare in automatico vero ah no dai me l'ha fatto aspettare e eccolo qui ci mancano i pezzi più inutili quelli che non c'entrano nulla col progetto cioè ci mancano sei pezzi di cui qua cinque sono alato e non servono quello centrale è il pezzo che ci farebbe vedere che cos'è effettivamente ma giusto curiosità posso già andare altri quattro altri quattro livelli io che pensavo di essere alla fine grazie a tutti Grazie a tutti.